E' stata profanata la chiesa matrice Santa Maria de Nives a Bovalino Superiore. Il gravissimo sacrilegio con la profanazione dell'Eucharistia è stato scoperto ieri pomeriggio quando il parrogo Don Rigoberth ha aperto la chiesa per la celebrazione della Via Crucis. Nonostante la possibilità di fare manbassa di alcuni oggetti di valore materiale, gli ignoti profanatori hanno trafugato soltanto l'ostia magna conservata nel tabernacolo e poi un medaglione del liquiario della Madonna. Questa è la prima ricostruzione fatta dopo la scoperta da parte del parroco e dal vicario Foraneo e direttore dell'ufficio liturgico diocesano Don Nicola Commesso insieme al priore dell'arciconfraternita Maria Santissima Immacolata Pasquale Blefari. La chiesa si trova situata nel centro storico dell'abitato dove risiedono circa 100 abitanti. I malfattori si sono introdotti forzando una porta laterale dopo aver cercato e trovato la chiave del tabernacolo hanno preso le ostie consacrate e le hanno sparse sulla mensa dell'altare portandosi via l'ostia magna che si trovava nella custodia eucaristica. Si pensa pure anche a tre ostie piccole consacrate. Poi successivamente, secondo la ricostruzione, hanno scassinato un armadio dove era custodito il medaglione del liquario regalato al vescovo Raffaele Antonio Morisciano di Bovalino. Nel medaglione si vuole fosse conservato un capello della Madonna. Il fatto che non siano stati rubati altri oggetti di valore presenti in chiesa non lascia dubbi sul fatto della profanazione eucaristica. E qui il riferimento è chiaro a qualche messa nera o riti satanici. Queste potrebbero essere le ipotesi più plausibili. Il primo a fare una dichiarazione è stato lo stesso vescovo di Locri Gerage, Monsignor Francesco Oliva, esprimendo tutto il suo profondo sconcerto e dolore per un gesto, dice, che offende l'intera comunità cristiana di Bovalino e dell'intera diocesi. Profanare le ostie, dice il presule, e sottrarle dalla custodia eucaristica è uno dei peccati più grandi, una ferita nel cuore di tutta la Chiesa e dei suoi fedeli. Prego perché gli autori del gravissimo gesto si ravvedino ed avviano un percorso nuovo nella loro vita. Ora saranno gli investigatori delle forze dell'ordine a cercare di scoprire le ragioni e di capire anche il perché di un gesto del genere, che come sappiamo, anche dall'attualità nazionale, potrebbe benissimo riversarsi nel filone delle sette sataniche.